C'è un'attenzione particolare su questo argomento, una perché è di interesse collettivo, due perché quest'anno se ne è parlato in maniera particolare e tre perché il decreto che è stato fatto, il decreto urbani, ha quattro anni, quindi a una certa età, il mercato si è, pur giovane comunque il decreto, si è mosso e si è mosso con grande interesse, muovendosi il mercato con una spinta che arrivava dalle aziende in realtà e un retaggio da parte della produzione cinematografica che aveva delle modalità diverse, che ancora adesso comunque ha una modalità bivalente, una modalità che viene sia dalla produzione che dalla proposizione delle aziende, quindi si è sdoppiata in due e ha inserito una marcia che va, una marcia più veloce insomma per il mercato in generale e per il product placement, quindi reperire le persone che fossero interessate a parlare di questo e che si fossero interessate anche autonomamente, di questo non è stata una difficoltà, se vogliamo è stata una difficoltà trovare delle persone che avessero il coraggio di esprimere un'opinione certa sull'argomento, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto giuridico, perché l'aspetto giuridico è quello più delicato ed è il motivo per il quale noi siamo partiti da lì, perché portare un esercito di avvocati e di giuristi, il codice di autodisciplina, Sky, Publitalia, l'autority per il libero mercato e quant'altro, come dire, era rischioso da una parte e molto intrigante dall'altro e c'è stato un grande lavoro perché loro si uniformassero anche mentalmente a un ambiente che non era il loro, normalmente di queste cose se ne parla in luoghi molto diversi da un festival del cinema, quindi era molto stimolante per loro andare a parlare di queste cose in un luogo diverso, ne hanno apprezzato l'iniziativa, a questo senz'altro e noi li abbiamo ospitati con gioia perché capire da dove viene l'input per poi generare e mettere ordine nel mercato per noi era importante ed era il nostro obiettivo primario, come dire. Obiettivo secondario non per importanza ma soltanto per cronologia, per seguire la nostra scaletta, era quella di parlare di qualità, perché il proprio placement è una questione di qualità fondamentalmente, anche dall'aspetto giuridico si parla di qualità che è anomala come cosa, quindi la qualità è molto importante, per avere un'idea della qualità che si sta sviluppando e quindi delle nuove professionalità che si stanno sviluppando era importante portare le agenzie, che sono le dirette interessate, sono quelle che fanno da link tra il mondo della produzione e il mondo delle aziende, perché un linguaggio, come dice il presidente Carlo Bassi, il linguaggio non è soltanto una questione di forma, qua diventa anche una questione di sostanza, cioè il capirsi e perseguire degli obiettivi comuni, non stravolgere il contesto narrativo e le necessità sceniche di un film e andare incontro a obiettivi di posizionamento e di marketing, se vogliamo, di un'azienda, non è semplice, ma non è semplice neanche nella contrattazione, tra virgolette, non è semplice nella gestione, non è semplice neanche nei meccanismi che poi portano a un risultato di qualità. Per la televisione è la grande aspettativa, perché partita la televisione partono i grandi numeri, partiti grandi numeri, parte un mercato e parte da una concorrenza, saranno più agenzie, più produzioni, più cose. E poi di televisione se ne parla tanto perché ci sarà un adeguamento e poi perché noi vediamo Prodoplasma in continuamente, perché laddove questo succede nelle serie tv, in America e in altri paesi, noi poi le compriamo, le guardiamo e quindi sostanzialmente c'è una globalizzazione del mercato delle industrie e quindi noi guardiamo Prodoplasma in prodotti altrove e a questo punto diventa prioritario non solo parlarne ma come dire dare la possibilità ai produttori italiani di investire nelle produzioni televisive italiane, ai produttori italiani di usufruire di finanziamenti che vengono dalle aziende italiane e anche estere, perché no. Per quanto riguarda videogiochi, musica, eccetera, i videogiochi hanno delle produzioni, ho scoperto di recente, che hanno delle produzioni dove si muovono capitali importanti. In Italia ci sono due e mezzo produttori di videogames veramente, veramente importanti, quindi non abbiamo, sono, si contano, saranno una ventina quelli che lavorano a livello globale, non solo in Italia ma anche all'estero e che fanno i prodotti che vediamo sulla Playstation, su Xbox, eccetera, eccetera. Ho parlato con una di queste aziende, loro sono molto interessate, il mercato funziona all'estero e io voglio portarlo all'interno del festival perché il Prodoplasment in realtà abbraccia, non solo i professionisti devono essere multidisciplinari, ma è una cosa che abbraccia quasi tutto l'audiovisivo, no? Mi piacerebbe strutturare il festival l'anno prossimo abbracciando queste due nuove discipline che sono la televisione, lo speriamo naturalmente perché aspettiamo il decreto, poi abbiamo la musica e i videogiochi e poter anche dare un premio e quindi mettere delle giurie che possono dare questa cosa con un lavoro che va avanti tutto l'anno e lì sì, internet sarà molto utile perché internet sarà lo strumento con lo quale si potrà arrivare, iscrivere, guardare, televotare, si possono chiedere una mano al pubblico perché ribadisco il Prodoplasment è una cosa che riguarda un po' tutti, proprio perché riguarda i contenuti. Mi piacerebbe che il Prodoplasment, uno dei Prodoplasment migliori, voglio dire, funzionasse proprio sul festival, nel senso, mi piacerebbe coinvolgere le aziende italiane su un festival che è italiano e per la prima volta in Europa si parla di Prodoplasment, questo mi piacerebbe molto che le aziende lo prendessero un po' come il nipote preferito perché la gente che ci lavora dentro sta facendo un grande lavoro per aprire una nuova porta e per dare una possibilità alla creatività di esprimersi perché come dicevo nella conferenza stampa la pubblicità sta avendo una crisi della creatività ma che è una crisi che c'è sempre stata perché riguarda il meccanismo. Prodoplasment ha un procedimento tutto a vantaggio della creatività e del contenuto e della narrazione e dell'espressione artistica perché è la produzione che dispone ed è l'azienda che si propone, cioè il procedimento è esattamente, completamente ribaltato. Quindi è una cosa che le aziende dovrebbero utilizzare, prendere come, veramente come nipote preferito perché è la possibilità di esprimere un prodotto, un obiettivo, un posizionamento del lavoro di anni di un'azienda di fare posizionamento e di investire tanti 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 soldi e tante energie per identificare un marchio o un prodotto nella mente del consumatore in una posizione alta o bassa che sia, femminile, maschile, non ha importanza. Cioè è il pensiero che ci siano delle persone che lavorano molto per posizionare un prodotto in una determinata nicchia, no? E anche nell'opinione comune voglio dire. Questo posizionamento se poi viene ribaltato sul prodoplasment in qualche modo e ci sta bene significa che c'è stato un buon lavoro, no? E quindi le aziende che si possono permettere di fare prodoplasment, quello di qualità, quello vero, quello bello, quello che ci piace, insomma, sono quelle aziende che hanno lavorato molto e che possono usare il prodotto preso come cartina di tornasole. Ecco, mi piacerebbe che il festival fosse la cartina di tornasole della volontà di fare un nuovo tipo di creatività, voglio dire, e poi anche di aprire il mercato a nuove professionalità. Questo festival, gli atti di questo festival probabilmente diventeranno un master o un inserimento all'interno di un master di comunicazione. Abbiamo gli appuntamenti, non vi svelo dove, perché non ho ancora parlato con loro, anche se loro ci sono delle persone molto interessate a questo tipo di argomento. A noi fa tanto piacere, no? Che ci sia la possibilità di dare delle persone, degli studenti, delle capacità in più, né migliori né peggiori, cioè in più, cioè vedere la comunicazione sotto un aspetto diverso, sotto l'aspetto della produzione cinematografica e quindi del prodotto audiovisivo, diciamo, perché potrebbe essere anche un videogioco per l'appunto, perché c'è la creatività della programmazione che è una cosa futuristica addirittura e poi l'aspetto della comunicazione.